Stasera si conoscerà la seconda finalista di Coppa Calabria. Dopo che i giovani dell'attorno Callipo Calabria hanno superato agevolmente Volley Rocella per 1-3 e 3-0, questa sera la palestra comunale di Praia Mare designerà una tra Spesce e Pallavolo Milani per il secondo posto in palio. Gara 1 finì per 3-2 a favore dei Rendani. I padroni di casa infatti la spuntarono soltanto a 5-7 in un alternarsi di alti e bassi da ambo le parti. Il match ha lasciato i giochi apertissimi per entrambe le candidate al posto in finale. Se la Spesce infatti si aggiudicasse la gara per 3-0 o 3-1 accederebbe alla finale e in caso di nuovo tie-break sempre a favore dei praiesi si disputerà invece un golden set. La squadra è pronta, ha detto l'allenatore praiese Biagio Borrelli e vogliamo a tutti i costi ottenere il risultato. All'andata, nonostante abbiamo perso, abbiamo piazzato le basi per riuscire nell'impresa. La Milani è alla nostra portata e noi vogliamo crederci fino alla fine. Abbiamo recuperato dall'infortunio anche Luca Settembre, dunque abbiamo ridato respiro al comparto dei centrali, ma tutti i ragazzi della Rosa sono motivati e sono intenzionati a fare bene. Start dunque alle 19.30 alla palestra comunale per un match tutto da seguire.